In realtà il Niger non è sempre stato la frontiera più meridionale dell'Europa, è diventato la frontiera più meridionale dell'Europa a partire dal 2015 quando i governi europei hanno investito di nuovo sull'esternalizzazione delle frontiere per rimettere ordine all'esplosione dei confini che era avvenuta in seguito alle primavere arabe nel 2011. L'Europa a partire dagli anni 90 ha investito su quella che definiamo esternalizzazione delle frontiere e cioè ha investito sui paesi extraeuropei limitrofi in modo che facessero da frontiera, da confine che bloccassero i migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati ben prima di arrivare sulle nostre coste. Quindi questa è una strategia in qualche modo che nasce insieme al progetto dell'Unione Europea. Nel momento in cui si pensa di superare i confini interni, le frontiere interne all'Unione Europea con l'applicazione, con la nascita di Schengen si pensa anche che è necessario però controllare le frontiere esterne. Questo ordine delle cose in qualche modo viene rimesso in discussione con le cosiddette primavere arabe, le rivoluzioni che ben presto in alcuni paesi si sono trasformate in guerre civili pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria e però appunto a partire dal 2015 quando in Europa arrivano più di un milione di persone soprattutto attraverso la rotta balcanica i governi europei capiscono che non sono pronti politicamente soprattutto che il sistema europeo di asilo e il sistema europeo di accoglienza non è in grado di fronteggiare una situazione di quel tipo e quindi riprendono i fili dell'esternalizzazione. Il Niger diventa protagonista di questo progetto di esternalizzazione innanzitutto perché come la Libia d'altro canto ma la Libia come abbiamo anche spiegato nel corso del dibattito che abbiamo appena concluso è un paese ancora in guerra, è un paese diviso tra almeno due governi e decine di gruppi armati e quindi da sempre tra l'altro anche all'epoca di Gheddafi le cui frontiere sono difficilmente controllabili il Niger invece è un paese relativamente stabile anche se è circondato da instabilità io sono stata appunto poche settimane fa nel paese, l'Unione Europea ha investito moltissimo attraverso fondi che apparentemente erano destinati alla cooperazione e che in realtà sono stati destinati al controllo delle frontiere ma c'è un altro livello, c'è esattamente un livello militare il Niger è diventato in qualche modo una base, essendo l'unico paese stabile con un governo riconosciuto non in guerra della regione di tutto il Sahel è diventato una base militare per moltissimi eserciti stranieri è una delle principali basi degli Stati Uniti nella regione della Francia e anche i governi europei come l'Italia, la Germania hanno capito che era importante investire in quel paese proprio per avere un controllo militare di tutta la regione quindi un controllo di quello che succede in Libia dove il nostro paese ha importanti interessi economici ma anche in Mali, in Nigeria questo ha fatto sì che il Niger da paese di transito quindi da paese che era attraversato dai migranti che cercavano di raggiungere la Libia o l'Algeria anche solo per fermarsi in Libia e in Algeria che sono due potenze economiche nella regione rimanessero bloccati nel paese quindi da paese di transito si è trasformato in paese di frontiera con tutto quello che ne consegue una maggiore militarizzazione la cosa interessante in questo momento è che coincidono nel paese tutte le operazioni per il controllo della frontiera e le operazioni antiterrorismo questo sta indebolendo notevolmente il paese perché gli stessi eserciti stranieri stanno diventando un target per i gruppi terroristici che da altre zone della regione appunto il Mali, il Burkina Faso, la Nigeria stanno penetrando nel paese che è uno dei più poveri dell'Africa tra l'altro in questo momento quindi uno dei paesi più poveri dell'Africa sta ricevendo una pressione migratoria importante perché appunto da paese di transito che viveva anche del transito dei migranti cioè il transito dei migranti aveva sviluppato una economia locale per le persone che per esempio lì trasportavano i famosi trafficanti erano diciamo dei conduttori di autobus loro è molto interessante andare in Niger proprio per decostruire l'immagine che noi abbiamo dei trafficanti qui in Europa erano per esempio nel nord del paese persone che conoscevano bene le rotte nel deserto e trasportavano insieme alle merci anche le persone appunto questa situazione quindi da una parte ha eradicato, ha distrutto in qualche modo l'economia del paese e dall'altra parte ha dopato l'economia del paese che vive di sovvenzioni europee e allo stesso tempo appunto c'è la pressione migratoria nel paese aumentata cioè tutti quelli che soltanto transitavano nel paese ora sono costretti a rimanere nel paese che è uno dei più poveri della zona ma questo chiaramente produce una serie di questioni sulla questione di chi arriva sempre di più le persone che arrivano nel nostro paese sono pochissime dopo aver attraversato avendocela fatta quindi avendo attraversato il deserto nel Niger, in Niger per esempio le rotte principali di accesso alla Libia sono state interrotte proprio perché c'è un controllo è stata approvata una legge nel 2015 che criminalizza il traffico di esseri umani e quindi c'è un controllo molto più diffuso è molto pericoloso fare il trafficante e quindi questo che cosa ha significato? non che il traffico si sia estinto ma che semplicemente sono state percorse altre rotte più pericolose e più dispendiose quindi le stesse persone che prima cercavano di attraversare e pagavano delle cifre accessibili ora devono pagare cifre molto più elevate e rischiare molto di più la loro vita sappiamo appunto che nel deserto si muore quanto se non di più nel Mediterraneo centrale quello che poi succede in Libia e ce lo raccontano i migranti appunto che riescono ad arrivare sono storie di detenzione di detenzione prolungata quasi tutti quelli che sono passati dalla Libia hanno raccontato di essere in detenzione per anni alcuni anche per anni per più di un anno questo significa, corrisponde ad aver vissuto orrori indicibili come dicono nelle Nazioni Unite torture, stupri sappiamo che in Libia gli immigrati, i migranti sono usati come merce di scambio e sono come dei bancomat che camminano vengono sequestrati dai gruppi armati che li ricattano e chiedono un compenso un riscatto alle famiglie per liberarli quindi diciamo che chi riesce ad arrivare a volte magari è intercettato in mare dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica e riportare indietro anche cinque volte chi riesce ad arrivare ha delle storie incredibili ed è quindi incredibile che nel momento poi della richiesta d'asilo gli sia negata quello che prima era uno strumento che veniva usato proprio per questo tipo di persone cioè per persone che non venivano da paesi in cui c'era una dittatura o da una guerra ma che nel viaggio avevano subito tali e tante torture che veniva riconosciuto comunque nel nostro paese la necessità di assicurargli una protezione umanitaria perché si diceva queste persone che spesso riportano nel corpo e nella psiche traumi così profondi non possono certo essere rimandati da nessuna parte le storie per esempio dei migranti che sono oggi a bordo della Sea-Watch 3 ci dicono esattamente questo loro dicono piuttosto che tornare indietro prevediamo morire questo diciamo se qualcuno è è capace di dire una cosa del genere ci dice tutto e ora non abbiamo più diciamo quello strumento giuridico legislativo che ci permetteva di assicurargli almeno una forma di protezione il decreto sicurezza bis diciamo insiste su una situazione che era già al limite della sopravvivenza per i soccorritori ricordiamo che il decreto prevede multe fino a 50.000 euro per chi entra nelle acque territoriali italiane venendo meno al divieto che è posto diciamo dal Ministero dell'Interno quello che sta cambiando è soprattutto il ruolo del Ministero dell'Interno che si assume la prerogativa di decidere chi secondo appunto il Ministero presumibilmente ha compiuto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quindi a chi vietare l'ingresso nelle acque territoriali italiane questo presupposto fino precedentemente era della magistratura cioè doveva essere un procuratore ad aprire un'indagine e presumere che una determinata nave avesse compiuto il reato come quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è un passaggio abbastanza importante è come se in qualche modo si volesse portare sul piano amministrativo quello che invece fino ad oggi è stato appunto sul piano penale e quindi di nuovo è un voler superare la separazione dei poteri che è la base appunto del nostro Stato di diritto a livello concreto non sta cambiando moltissimo diciamo perché già con le direttive di marzo e aprile ma direi già nell'ultimo anno per le navi delle organizzazioni non governative che resistevano diciamo così in quel tratto di mare sappiamo che la vita non era per nulla facile è sempre dal giugno del 2018 di fatto la possibilità di compiere soccorsi in mare e sbarcare le persone soccorse nell'arco di pochi giorni come avveniva precedentemente in un porto sicuro bene questa possibilità erano diminuite notevolmente ricordiamo il primo caso quello dell'Aquarius nel giugno del 2018 senza nessuna forma di decreto senza nessuna forma di scrittura amministrativa il ministro dell'interno decide che l'Aquarius appunto la prima nave dell'ONG a ricevere questo tipo di ordine non poteva con 630 persone a bordo all'epoca non avrebbe avuto l'autorizzazione ad arrivare in un porto italiano e quindi quella nave dovette navigare per tre giorni prima di arrivare in un porto spagnolo all'epoca appunto gli spagnoli erano disponibili ad accettare queste persone ma questo comunque ha voluto dire rivoluzionare il soccorso in mare io racconto però nel mio libro che questa storia comincia molto prima comincia alla fine del 2016 quando soprattutto di nuovo i governi europei decidono che una delle priorità politiche è quella di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale che è una delle rotte la rotta principale in quel momento da cui arrivano migranti in Europa quello che è cambiato in termini concreti non è tanto che si sono ridotti notevolmente gli arrivi sono arrivati nel nostro paese l'85% quest'anno l'85% di persone in meno rispetto all'anno precedente ma sappiamo che il tasso di mortalità lungo quella che è diventata la rotta più pericolosa del mondo si è alzato vertiginosamente muore una persona ogni sei le persone continuano a partire quindi non è vero che le navi delle ONG siano sono state un fattore di attrazione le persone continuano a partire dalla Libia ma vengono riportate indietro dalla guardia costiera libica quindi vengono riportate indietro in quel paese che descrivevo prima cioè un paese in cui i migranti vengono sottoposti a ogni forma di violenza si sono riattivate alcune rotte storiche diciamo come la rotta marocchino spagnola e la rotta turco-greca che sono rotte molto pericolose e anche quelle diciamo il cui tasso di mortalità è molto alto certo grazie ecco come ultima domanda invece dopo anni di reportage di attività di reportage ha deciso di pubblicare questo libro come mai la scelta di passare a questa forma ecco ma mi rendevo conto che più passava il tempo e più molto rapidamente appunto si stavano dimenticando tutti i passaggi che avevano portato in qualche modo alla criminalizzazione delle persone di origine straniera e alla criminalizzazione degli umanitari quello che secondo me era un tratto nuovo del processo appunto di criminalizzazione avevamo assistito anche in passato penso agli anni 2001 2002 quando fu approvata la legge Bossi-Fini ma e poi agli anni dei pacchetti sicurezza di Maroni a processi di criminalizzazione delle persone di origine straniera nel nostro paese che in qualche modo erano il frame diciamo comunicativo la cornice in qualche modo propagandistica che giustificava degli interventi legislativi di quel tipo ma per la prima volta appunto alla fine del 2016 l'obiettivo polemico dei governi che volevano appunto chiudere alcune rotte o prendere diciamo l'immigrazione come come obiettivo critico nella propaganda soprattutto politica si erano rivolte le attenzioni appunto agli umanitari per poi trasformarsi diciamo espandersi a tutto quello che potremmo definire terzo settore mondo del volontariato mondo dell'accoglienza mondo dell'assistenza fino a poi organizzazioni politiche e indipendenti e questo mi sembrava un passaggio molto importante che in qualche modo io avevo testimoniato con le mie cronache appunto con il mio lavoro di testimonianza avevo registrato una distanza enorme tra quello che io vedevo e testimoniavo sul campo e quello che invece veniva raccontato dai politici ma anche dai giornali mainstream e quindi l'esigenza in qualche modo di dare una profondità storica non solo legata al presente agli avvenimenti e soprattutto di nominare i responsabili perché appunto già vedevo che con grande facilità si stavano perdendo in qualche modo le responsabilità politiche di questo processo e si stava ricostruendo riscrivendo come spesso succede la storia di quanto accaduto in qualche modo mi sembrava interessante registrare invece questo passaggio storico con tutti i passaggi e con tutti i responsabili le responsabilità politiche grazie a tutti Grazie a tutti